E' un fenomeno in crescita quello dell'arrivo di bambini profughi in Alto Adige, riusciti a scappare dalle loro terre d'origine colpite da guerre e conflitti, ma respinti dalla vicina Austria. La procura dei minori di Bolzano nel 2014 ne ha registrati 900 di questi casi, 300 i bimbi non accompagnati contati, mentre gli altri 600 sono risultati accompagnati da un adulto che non sempre va precisato, è il genitore. Bambini profughi che vivono un dramma nel dramma, costretti a compiere lunghissimi viaggi di fortuna e poi, come succede, arrivati in Austria vengono respinti. E proprio anche di questo delicato argomento hanno parlato in un tavolo di confronto i garanti per l'infanzia e l'adolescenza di Austria e d'Alto Adige. Bambini profughi vengono e sono venuti sempre, al momento è stato istituito al Brennero un'accoglienza un'accoglienza dove bambini e donne possono arrivare, però anche adulti, dove ricevono da bere, da mangiare e anche vestiare. Nei primi due mesi di quest'anno si stimano già oltre 100 minori transitati in Alto Adige, una quarantina dei quali non accompagnati. L'apposita struttura d'accoglienza creata al Brennero in alcuni momenti non sarebbe in grado di reggere tutti gli arrivi e quindi in molti casi i profughi, adulti e bambini verrebbero fatti scendere dai treni alla stazione di Bolzano. Per rispondere ad un fenomeno in costante crescita, ad esempio alla polfer del capoluogo è giunto personale in supporto da altri comandi. Il tavolo di confronto tra Austria e Alto Adige ha fatto però emergere anche altre questioni e difficoltà. Per esempio adesso è stato detto che il garante del Tirolo, per esempio, secondo le sue statistiche ha detto che sono abbassati i numeri, per esempio le problematiche per quanto riguarda la separazione e divorzio per i bambini. Io per esempio da garante, se io guardo i miei casi, ho scoperto che sono aumentati, per esempio anche le problematiche della scuola da noi sono aumentati. Se io parlo con il garante di Vienna, lui logicamente parla del radicalismo, cioè loro hanno le problematiche che adesso, che noi sicuramente avremo in alcuni anni. I casi riguardanti i minori sono in crescita e con essi la mole di lavoro, nonostante l'organico sia carente. Io da garante ho gestito più di 500 casi quest'anno e questo logicamente con una giurista e con una segretaria di 85% è poco.